Il Salone di Ginevra 2016, allo stand della Suzuki, troviamo soprattutto delle conferme. La conferme è di una gamma che si sta articolando veramente verso l'alto e verso il basso, con la Vitara naturalmente, con la S-Cross, ma soprattutto con la Celerio piccolina che sta raggiungendo anche dei buoni livelli di interesse per quello che riguarda le auto da città e di primo prezzo. Ma c'è un'automobile che a me interessa in modo particolare, non è una novità assoluta, l'abbiamo già vista circa 4-5 mesi fa al Salone di Francoforte, la Baleno. Ora, vi ricordate la Suzuki Baleno del passato? Era un'automobile presa persino un po' in giro per la sua forma. Beh, oggi è diventata qualcosa di molto più concreto e compatto, un'auto da città di segmento B, con dei valori di concretezza importanti, perché è costruita bene, è costruita con buon senso, non con dei materiali di lusso, non con delle finiture eccezionali per le quali si griderà al miracolo, ma guardando soprattutto ciò che ha bisogno la gente e ciò che serve veramente su un'automobile. Io ho veramente tanta voglia di guidarla, spero che arrivi presto in pista a Vairan.